Ieri mattina si è conclusa la fase degli interrogatori di garanzia per la vicenda giudiziaria culminata il 20 ottobre scorso con un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il sindaco di Montagna Reale Rosario Sidoti e nove misure interdittive per persone a lui legate da vincoli di parentela. L'inchiesta è stata portata avanti dalla Procura della Repubblica di Patti per i reatti di associazione a delinquere finalizzata a plurime bancarotte fraudolente tentata in debita percezione di finanziamenti pubblici di matrice regionale comunale e riciclaggio. Nel corso dell'operazione è stato disposto anche il sequestro di denaro e beni per un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro. Delegati dalla Procura pattese sono stati gli specialisti economico-finanziari della tenenza della Guardia di Finanza di Patti sotto il coordinamento del gruppo di Milazzo che con intercettazioni telefoniche, ricostruzioni ambientali, accertamenti bancari e altre attività di polizia giudiziari hanno chiuso il cerchio. Dal 20 ottobre in poi sono iniziate le fasi preliminari con gli interrogatori di garanzia. Cinque indagati sono stati sentiti lunedì scorso e gli altri cinque nella giornata di ieri. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al CIP del Tribunale di Patti Ugo Molina e al PM Andrea Pollonio che con il procuratore capo Angelo Cavallo hanno coordinato le indagini. Concluso questo passaggio si apre, perché ovviamente vorrà avvalersene, della facoltà di presentare ricorso al Tribunale della Libertà. C'è chi ha già detto di non volerlo presentare, chi invece sta meditando e leggendo le carte, oltre 200 pagine, per capire il da farsi. Nutrita, come era prevedibile, la platea degli avvocati Francesco Aurelio Chillemi, Alessandro Pruiti, Ugo Colonna, Valentino Gullino e Pippo Ignazitto, impegnati lunedì e poi Fabio Di Santo, Natale Bonfiglio, Francesco Aurelio Chillemi, David Bongiovanni e Antoniele Imbesi, impegnati ieri.